Un nuovo ecografo è stato consegnato questa mattina al reparto di medicina interna dell'ospedale San Massimo di Penne da Vestina Gas e Luce, uno dei principali operatori e gestori di metano ed energia elettrica in area vestina. L'ecografo portatile consentirà l'assistenza del degente presso il proprio letto, evitando lo spostamento negli ambulatori diagnostici dei pazienti che versano in condizioni di gravità. Il macchinario riveste inoltre ulteriore importanza per contrastare nel modo più efficace possibile la diffusione del Covid-19, evitando gli spostamenti e il contatto tra soggetti deboli all'interno delle strutture sanitarie. Continuano così gli atti di donazione a sostegno dei sanitari e del presidio ospedaliero dell'area vestina, duramente colpito dalla forza del Covid-19. Sì, sì, come ho già avuto modo di dire, ripeto, io credo che ognuno di noi professionisti della sanità debba essere messo in condizioni di esprimere al meglio le proprie potenzialità e di avere quelle dotazioni strumentali e non solo strumentali che gli permettono di fare questo, cioè di dare tutto quello che può dare. In fin dei conti gli utenti di questo hanno bisogno che noi gli diamo tutto, però ovviamente per andare in bicicletta ci vuole la bicicletta. Allora, come voi sapete, l'ecografia è una metodica non invasiva che ci permette di fare tante cose, sia dal punto di vista diagnostico che anche dal punto di vista terapeutico. Tra l'altro l'ecografia si fa dappertutto. Le nostre peculiarità, noi non facciamo l'ecografia né meglio né di più degli altri. Quello che facciamo di diverso dagli altri è l'ecografia interventistica, cioè utilizzare l'apparecchio come un supporto per poter accedere ad organi ed apparati del paziente attraverso aghi ed altri sistemi. Questo apparecchio ci permetterà di fare queste attività, sia di diagnostica che di terapia ecoassistita, anche al letto del paziente. Quindi su pazienti via via sempre più critici e su pazienti a cui noi potremo dare lo stesso servizio con un minor discomfort perché non li dovremo mettere sulla barella, portare qui eccetera eccetera eccetera.